Una bomba Molotov esplosa in una banca del nord-ovest della Cina ha causato circa 40 feriti, lo riferisce l'agenzia di stampa cinese. L'esplosione è avvenuta in una banca rurale nella contea di Tianzu, nella provincia del Guangzhou. Al momento dello scoppio era in corso una riunione. La polizia ha chiuso l'aria mentre sono arrivate le ambulanze che hanno trasportato in ospedale i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.